Ciao a tutti, sono Francesco Berini, tecnico riparatore, benvenuti sul mio canale. L'argomento che tratteremo oggi riguarda i risuonatori. Cosa sono i risuonatori? I risuonatori sono questi dischetti, che possono essere appunto in metallo o in plastica, bombati, schiacciati, in varie forme, di vari materiali, eccetera, che troviamo attaccati ai tamponi del sassofono e anche del clarinetto. In alcuni casi. Storicamente il tampone nasceva privo di qualsiasi tipo di risuonatore, senza neanche il freddo centrale. Poi è nata l'esigenza di tirare la pelle centralmente, in quanto tamponi di grandi dimensioni, come per esempio questo, avevano la tendenza a far sì che si creasse una bolla d'aria tra la pelle e il feltro che c'è all'interno del tampone. E quindi è nata l'esigenza di tirare la pelle ed è stato applicato inizialmente un rivetto. Esistono ancora dei sax molto vecchi con i tamponi originali degli inizi del secolo scorso, con appunto queste sembianze. Nel tempo poi ci si è accorti, facendo appunto degli studi e facendo poi delle sperimentazioni applicate agli strumenti musicali stessi, è nata appunto l'esigenza di, diciamo così, ci si è accorti che posizionando un risuonatore, quindi una superficie riflettente sul tampone, si andava ad aumentare la risonanza dello strumento stesso, in termini di volume, ma anche di brillantezza di suono, di armoniche, eccetera, eccetera, eccetera. Questo per quello che riguarda, diciamo così, il discorso della storicità della nascita del risuonatore. Ma perché esistono i risuonatori? I risuonatori esistono perché la pelle, in generale, è fonoassorbente, ovvero quando l'onda sonora intercetta il tampone, il tampone assorbe l'onda stessa senza rifletterla, un po' come le superfici lucide rispetto alle superfici opache. Stesso discorso, insomma, che succede, per esempio, appunto con la luce. Infatti voi tendenzialmente, i musicisti, quando vogliono sentire il loro suono, non vanno verso il divano, o verso la nonna, o verso il gatto. Vanno verso uno specchio, verso un vetro, o verso magari una porta con una superficie un po' lucida, perché lì si rendono conto, essi stessi, che istintivamente, magari anche senza aver fatto studi approfonditi di fisica acustica, ti rendi conto che effettivamente il suono lì viene riflesso. Mentre una superficie porosa e opaca lo assorbe. Il materiale, da questo punto di vista, incide, è scientificamente dimostrato, sono stati fatti dei test fino a un certo punto. Quindi il discorso di montare risuonatori in plastica, piuttosto che in metallo, non ha un'efficacia in una percentuale molto rilevante. È vero che la plastica tendenzialmente rifletterà il suono un pochino meno rispetto al metallo, ma non in una percentuale apprezzabile rispetto a, rispetto a che cosa? Rispetto al diametro, quindi alla superficie del risuonatore stesso. Infatti io in questo caso ho iniziato a fare un lavoro, che porto già avanti da un po' di tempo, in maniera meno sistematica di quando non abbia voglia di iniziare a fare adesso, di montaggio di risuonatori ad hoc in qualità di diametro. Ok? Cioè, se a parità di tampone possiamo andare a montare un risuonatore diverso, nel senso che possiamo andare a montare un risuonatore di questa tipologia qua, di questo diametro qua, quindi 24 mm di diametro, oppure un risuonatore più grosso, 28 mm di diametro. Naturalmente, il risuonatore più grosso andrà ad occupare una maggior superficie all'interno della cameratura dello strumento, lasciando una minor quantità di pelle. Naturalmente la quantità di pelle deve essere minima, perché per un discorso tecnico l'impronta deve comunque avere un certo spazio per poter lavorare bene, quindi non possiamo andare a creare un'impronta troppo a ridosso del cammino dello strumento, ma lì dipende un pochino dai costruttori e dalla vita che ha vissuto lo strumento, né, e in questo caso possiamo intervenire noi, troppo vicino al risuonatore. Ora, io ho fatto una livissima impronta che adesso si vedrà poco, ma forse si riesce a vedere grazie alla mia fotocamera, del mio cellulare che vale fino a un certo punto, di modo che ci siano comunque sempre almeno un paio di millimetri di distanza tra dove avverrà l'impronta e la distanza del risuonatore. Quindi, se siete alla ricerca di un suono più brillante, un maggior volume, un suono più acceso, diciamo così, o cercate l'aggettivo che preferite, perché comunque poi su queste cose qua gli aggettivi valgono fino a un certo punto, domandate al vostro riparatore il risuonatore più grande possibile. Se invece cercate un suono, magari su determinate note, eccetera, più cupo, medioso, eccetera, aumenteremo la superficie di contatto, diciamo così, tra la cameratura del vostro strumento e la pelle, quindi aumentiamo la superficie di pelle all'interno della cameratura del nostro strumento e otterremo così un suono, taglieremo delle frequenze medio-alte, per cui otterremo un suono più tondo, più pastoso, una minor proiezione, una minor riflessione di suono. Quindi, ricordatevi, non è tanto il materiale che conta, se plastica o metallo, se non in termini magari di spessore, ma questo è un altro argomento che tratteremo magari in un altro video, ma quello che conta veramente è la superficie di metallo rispetto alla superficie di pelle, diciamo, la superficie del risuonatore rispetto alla superficie di pelle che c'è all'interno della cameratura. Quindi, se l'onda acustica incontrerà più pelle o più risuonatore. Tutto qui. Spero di esservi stato utile, grazie per avermi seguito, alla prossima, ciao!